Buongiorno, oggi siamo con il dottore Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, esperto di prevenzione in età evolutiva ed autore di molti volumi per bambini, genitori e insegnanti. Venuto professore. Grazie mille, buongiorno a tutti. Sta passando la tempesta, volume edito dalla Exo, agli educatori, siano essi insegnanti che genitori, per accompagnare i bambini dall'infanzia o i primi anni della primaria a far fronte alle difficoltà facendo ricorso ai risorsi interiori. Ci aiuti a capire meglio questo aspetto? Sì, l'idea è che tutti nella vita, quando dobbiamo affrontare difficoltà, ostacoli, situazioni impreviste, dobbiamo trovare dentro di noi le risorse. Quando sei un bambino in realtà la tua risorsa principale, prima di tutto è l'adulto che si prende cura di te, l'adulto che funziona come base sicura per la tua vita. Ecco, quell'adulto però dentro a una difficoltà non può farsi carico al 100% della tua sopravvivenza, della tua capacità di attraversare le difficoltà, ma deve, mentre ti tiene per mano, aiutarti anche ad attivare le risorse che tu hai a disposizione così che ci si allena la vita. Quindi il progetto legato a questo libro, a Sta passando la tempesta, è proprio quello di permettere ai bambini di sperimentarsi nella relazione con l'adulto educatore, sia il genitore sia l'insegnante, sperimentarsi in attività, esperienze condivise con l'adulto, in cui apprende e comprende che dentro di sé, dentro al proprio mondo interno, ci sono molte risorse che aiutano a fronteggiare le difficoltà. Ecco, un'attenzione particolare viene rivolta ad educare i vari domini della nostra intelligenza, partendo da quella che è la teoria di Gardner. Quando è importante per un educatore avere chiara questa visione, saper lavorare correttamente in ogni dominio? Ma è molto importante, quando Gardner ci ha presentato la sua teoria delle intelligenze multiple, era davvero consapevole che avrebbe fornito uno strumento di grandissima importanza per tutti gli educatori. Fondamentalmente ci ha fornito il modello di una mente unica, che è però composta da un puzzle di menti. Il nostro funzionamento mentale è il risultato di ciò che noi facciamo di tutte le nostre menti. E ognuna di queste menti va un po' considerata come un giardino di cui l'educatore deve avere cura, che deve essere coltivato e nutrito. Per cui è bellissimo vedere come nel modello delle intelligenze multiple ci siano un po' tutte quelle aree di lavoro su cui poi noi condividiamo esperienze di apprendimento con i bambini. C'è la mente letteraria, la mente logico-matematica, la mente artistica, la mente musicale, la mente cinestesica corporea. Poi ci sono le due menti intrapersonale e interpersonale che sono quelle più legate davvero all'intelligenza emotiva, alla capacità dei bambini di acquisire un valido sapere essere. E poi rispetto a questo modello originale, Howard Garner ha aggiunto anche la mente naturalistica e la mente spirituale. Ognuna di queste menti per noi educatori è come un giardino che va perciò conosciuto, coltivato e nutrito per poter dare ai bambini la massima potenzialità, trasformare con la loro potenzialità poi in reale competenza di vita. Dentro al libro abbiamo proprio fatto attenzione affinché ognuna delle esperienze che vengono proposte ai bambini in questo percorso, che è un percorso di fronteggiamento delle difficoltà, ecco nel fronteggiare le difficoltà abbiamo proposto attività che attivassero ciascuna di queste menti e fondamentalmente fare un percorso perciò dentro al libro e anche fare un po' un percorso a tutte le molteplici menti dei bambini. Ecco, ritorniamo un attimo sui destinatari di questo volume che sono i bambini dell'infanzia e dei primi anni della primaria. Quindi stiamo parlando delle prime fasi dell'educazione. Quanto è importante instaurare fin da piccolo una buona e corretta prassi educativa e quali benefici li potremo raccogliere in futuro? Ma è chiaro che il primo tempo della nostra vita è un tempo di straordinaria importanza perché ciò che seminiamo lì viene poi raccolto nel resto della nostra vita. Fondamentalmente noi parliamo di età evolutiva proprio perché nei primi vent'anni della nostra vita cioè quando siamo dei minorenni noi dobbiamo evolvere e l'evoluzione avviene attraverso direi la costruzione di reti neuronali dentro al nostro cervello. Le neuroscienze ci danno proprio l'immagine di un cervello che viene scolpito con cesello e scalpello dall'esperienza educativa all'interno della quale i bambini e i ragazzi e le ragazze poi vengono coinvolti. Quindi offrire un buon progetto educativo a chi cresce significa conoscendo il funzionamento della mente del bambino mettere a sua disposizione in un contesto relazionale supportivo, adeguato, affettivamente competente quelle esperienze che vanno proprio a attivare e a integrare fra di loro reti neuronali che una volta attivate e integrate nel cervello del bambino rimangono con lui poi tutta la vita. Questo significa che quello che noi facciamo fare i bambini nel loro percorso di crescita costruisce delle competenze interiori che poi rimangono con loro tutta la vita ma potremmo dire proprio per legge del contrapasso che anche tutto quello che noi non facciamo fare ai bambini non permetterà loro di acquisire quelle competenze che sono invece fondamentali per l'adultità. E un po' la responsabilità educativa dell'educatore sta tutta qui decidere quali sono le cose migliori le esperienze migliori da proporre ai bambini ed eventualmente tenere invece i bambini lontani da esperienze magari verso le quali loro sono molto attratti e che però hanno pochissimo impatto invece sulla costruzione delle loro competenze per la vita. Questo penso che sia il dilemma che in questo momento educatori e genitori stanno affrontando con le nuove generazioni perché noi vorremmo educarle e allenarle alle competenze che servono per la vita reale ma molta della loro vita si è spostata nella vita virtuale dove acquisiscono altre competenze che non necessariamente però saranno risorse poi per la loro vita adulta. Ecco, mi soffermo un attimo su questo aspetto che lei ha sottolineato quello dell'educatore e del ruolo delle domande delle azioni da compiere questo comporta che non si educa più come in passato con la tradizione e l'abitudine ma c'è bisogno veramente di una formazione degli educatori sia genitori che insegnanti lei parlava anche del rischio del virtuale ha scritto tanti libri anche per genitori ed insegnanti ci aiuta un attimo a capire un percorso brevemente un percorso per essere quanto meno un pizzico competente in quello che andiamo a fare? ma direi che le cose che ci servono di più almeno quelle che anche a me sono servite di più sia per fare il mio mestiere ma sia per essere un buon genitore dei quattro figli sono da una parte in questo momento davvero davvero importante farsi aiutare da tutto ciò che le neuroscienze hanno scoperto negli ultimi 20-30 anni rispetto al funzionamento della mente allo sviluppo della mente in età evolutiva sono tutte informazioni che non esistevano nei decenni passati che ora sono disponibili e sono di straordinaria importanza quindi credo che questa rappresenti una base perché poi fornisce delle competenze oggettive non delle opinioni o delle tendenze dei trend educativi ma forniscono invece delle basi solide il secondo aspetto che credo importantissimo in questo momento sia generare un dialogo e un'alleanza tra famiglie prima di tutto e poi tra famiglie e scuole che è uno degli aspetti che si è perso di più per cui per esempio il formato della scuola per genitori che interessa molte famiglie dove in molte scuole ci sono degli eventi formativi per i genitori e poi piccoli gruppi di genitori che in cerchio approfondiscono quei temi e parlano della loro personale esperienza di genitori di che cosa succede nelle loro case si confrontano con stili e modelli educativi delle altre famiglie ecco credo che questa sia proprio una direzione oggi più che mai necessaria perché dobbiamo un po' ricostruire quella rete di connessione reale tra adulti che permette poi agli adulti di avere una visione una mente adulta comune che sa guardare all'infanzia alla preadolescenza all'adolescenza con una con una condivisione di obiettivi e di visioni ecco una parola molto abusata in questo periodo è la parola resilienza ci spiega cosa vuol dire e come deve agire un educatore per far crescere questa pratica nei bambini ma la resilienza è la capacità che ciascuno di noi ha di affrontare eventi avversi difficoltà ostacoli imprevisti senza venirne spezzato frantumato il che significa che riesco a trovare un modo per gestire qualcosa che pensavo di non saper gestire e che potrebbe anche farmi molto male ma alla fine di questa esperienza io scopro che sono rimasto integro intero anzi che ho messo via probabilmente nel mio kit degli attrezzi nuove risorse nuove competenze che non pensavo di avere e che invece erano dentro di me fondamentalmente l'immagine potrebbe essere quella di un albero che spazzato dalla tempesta ha due alternative o si rompe e cade al suolo oppure si piega si rende flessibile e per tutto il tempo della tempesta rimane radicato e ancorato al terreno cambiando forma e poi al termine della tempesta più o meno riprendendo la forma originaria ma chiaramente non essendo più quello di prima perché avrà perso foglie perché avrà perso rami ma allo stesso tempo perché avrà affrontato una situazione imprevista comprendendo che ce l'ha fatta la resilienza fondamentalmente è questa cosa qua cioè entrare dentro alla vita mentre la vita cade sapendo che la vita può accadere anche con eventi inaspettati avversi e mentre si è lì dentro cercare dentro di sé le risorse per farcela ora questo se sei un minore se sei un bambino non puoi farlo da solo quindi diventa fondamentale avere a disposizione relazioni educative di sostegno di guida e che funzionano per te come base sicura cioè che mentre ti danno protezione e sicurezza ti indicano però una via per poter affrontare e uscire dal momento di difficoltà spesso il rischio più grande nel percorso verso la costruzione della resilienza nei minori è che questo percorso viene interrotto dal fatto che l'adulto diventa iperprotettivo e quindi fa tutto lui per proteggere un minore nel fare anzi a volte nasconde addirittura l'evento avverso che il minore non lo sappia in modo che così non dovrà soffrire non lo dovrà gestire ecco crescere vuol dire in realtà imparare ad affrontare progressivamente rischi sempre maggiori senza rimanerne chiaramente danneggiati in modo indelebili e non esiste una crescita rischio zero e l'adulto deve imparare a sua volta a tollerare proprio anche l'ansia che gli deriva dal fatto che il proprio figlio non sempre naviga in acque tranquille ecco professore chiudiamo con un'ultima domanda a scuola ci si sofferma spesso sull'acquisizione delle conoscenze e poco sulla crescita della persona io parlo in particolare per l'intelligenza emotiva ci troviamo ad avere ragazzi sempre più fragili in difficoltà ad affrontare le varie problematiche che si presentano nel corso della vita è quella che abbiamo appena rappresentato è una lettura corretta della situazione attuale ma sì credo che la sfida educativa oggi è molto grande perché perché noi cerchiamo di offrire un'infinità di sapere e saper fare a chi sta crescendo ma spesso questo genere poi di competenze viene va a depositarsi in un soggetto che non ha preso il saper essere è chiaro che il saper essere invece è il prerequisito per affrontare la vita se sai essere poi quello che sai e quello che fai ti permettono di arrivare a una realizzazione piena di te ma se tu sai e fai tante cose ma non sai essere ecco che questa situazione diventa una sorta di contraddizione di termini quindi potresti essere uno che sa tutto ma che poi nella vita non riesce davvero a trovare la chiave d'accesso alla realizzazione personale alla felicità il rischio il saper essere non lo si può imparare nei libri lo si deve imparare nei contesti relazionali avendo a disposizione educatori guide allenatori che hanno proprio in mente che l'obiettivo nella relazione educativa che instaurano con il minore è formarlo cioè aiutarlo a prendersi per mano e vedersi crescere un ragazzo mi ha detto per me la crescita deve essere trasformarmi da pensiero pensato a pensiero pensante che è una frase bellissima perché corrisponde proprio concretamente a quello che poi succede nel cervello di chi cresce mentre sei bambino sei molto dentro al copione dell'obbedienza più diventi adulto e più invece diventi autonomo e quindi devi obbedire soprattutto a te stesso e non alle prescrizioni che ti forniscono gli altri ecco in questo momento credo che questo genere di pensiero serva tantissimo anche nel mondo della scuola dobbiamo sostenere la crescita e il saper essere dei nostri studenti perché nella vita reale questa è una dimensione parecchio impoverita e di nuovo torniamo al tema dell'iperconnessione della virtualizzazione delle vite dei nostri figli molto aggravata dalla pandemia da covid perché se tu stai chiuso nella tua camera per moltissime ore al giorno e la vita il fuori ti arrivano dentro alla stanza esclusivamente attraverso i pixel del tuo schermo molto probabilmente le competenze che metti in gioco non sono competenze utili a costruire un saper essere funzionale poi a generare la vita adulta verso cui va incontro grazie professor Pellai per essere stato con noi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi